Era tornato in libertà nell'ottobre 2011 dopo essere stato scagionato dall'ergastolo per la strage Borsellino, ma anziché uscire dal giro, si era creato un business investendo i proventi di origine illecita in distributori di benzina palermitani. Arresti domiciliari per Cosimo Vernengo, figlio di Don Pietro, detto Utistuni di Cosa Nostra, storico esponente della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù. L'uomo è ora accusato di intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio. Grazie alle indagini svolte dagli uomini della Guardia di Finanza, coordinati dal procuratore Salvatore De Luca, è stato infatti possibile risalire ad una serie di connessioni economiche occulte riconducibili al boss. 3. Le imprese operanti nel settore della distribuzione di carburante e del rimessaggio di barche che l'uomo avrebbe fatto intestare ai suoi parenti, sequestrate questa mattina dal nucleo speciale di polizia. Nel mirino il distributore Kuwait di Giuseppe Farina, genero di Vernengo, in viale regione siciliana nella zona del carcere Paiarelli, e il fuel di Antonino Sampino, fratello del cognato situato in viale dell'Olimpo.